E' fatta, vincitore del contest MOOCs, categoria giovani, siamo al maxi, oggi è una bellissima giornata, Andrea quanti anni hai? 16 Hai 16 anni, sei del liceo Volterra di Ciampino, allora ci hai creduto sin dall'inizio, ti sei dato tantissimo da fare, hai lavorato tendenzialmente quasi da solo, giusto una persona ti ha aiutato Da dove sei partito con questa grinta? Cosa ti spinge? E poi tra l'altro ti occupi di cultura, il tuo lavoro è dedicato alla cultura, è molto bello Sì, è dedicato, perché comunque un po' i temi della mostra era l'arte, quindi ho pensato un po' a come si potrebbe impiegare il tempo risparmiato grazie alla tecnologia che comunque ci aiuta ogni giorno La cultura per te rappresenta molto nella tua vita da studente comunque? Abbastanza, perché bisogna studiare molto, soprattutto nella scuola in cui vai E quindi comunque anche il tuo tempo libero sei disposto a investirlo, investirlo in cultura e l'Italia è un posto che ne ha a sufficienza E sei un bel esempio di un giovane che ha coniugato la tecnologia, la passione, l'impegno E allora i prossimi passi quali saranno, Andrea? Non lo so, vedrò quel che posso fare È importante che tu riesca anche a coinvolgere dei tuoi compagni Sei giovane, ma è importante che siate in tanti Certo, espandere la cultura in giro per l'Italia soprattutto E soprattutto così giovani, con tanto impegno, tu hai lavorato giorno e notte per arrivare a questo appuntamento Il premio è arrivato, bravo, bravo davvero, sei un bel esempio Grazie